Ciao a tutti, come spiegheresti a una bambina l'endometriosi? Probabilmente cercherei di farle capire che ci sono giornate in cui si può stare bene, giornate in cui si è costretti a stare a letto, o magari anche all'interno della stessa giornata, un minuto prima si stava bene e poi all'improvviso si sta male. Per cui bisogna avere pazienza e le direi che quando diventa grande e se non si sente bene per qualsiasi motivo, se dovesse avere delle mestruazioni dolorosissime, tutto questo non è normale e non va assecondato nessun sintomo. Provare dolore di qualsiasi tipo non è normale, non va bene e bisogna ascoltare il proprio corpo e mettere in condizione anche gli altri di poter essere di supporto, perché magari tante volte quando si soffre partiamo con tanto gli altri non possono capire e ci chiudiamo un po' al riccio. Invece è importante anche chiedere aiuto, magari non entrerei nei termini specifici medici, parlerei più in senso forse psicologico, in modo da poterla aiutare a comprendere qualsiasi tipo di patologia che non va ghettizzata e che il dolore non va sopportato soprattutto. Come si supera il dolore psicologico e fisico alla prima manifestazione? Allora, superare la manifestazione di dolore a livello psicologico non è semplice. Per quanto mi riguarda ho quel tipo di endometriosi, per cui già dalla prima mestruazione per me è stata super dolorosa, però poi per anni ho indagato per patologia gastrointestinale e siamo arrivati solamente due anni fa ad avere una diagnosi di endometriosi severa. Diciamo che piano piano si impara a convivere con il dolore, ci sono due modi di affrontare la cosa, o ci si rimbocca le maniche in un modo o nell'altro, facendo pace anche con le giornate in cui si odia tutto e non si ha voglia di fare nulla e di rispondere ai messaggi, di avere persone vicine, quindi anche questo è normale. Però o ci si arma di pazienza e si cerca di costruire una propria routine, oppure ci si lascia abbattere. Devo dire che la maggior parte delle persone con utero che soffrono di endometriosi sono delle vere guerriere, ci tengono alla vita, ad andare avanti con i loro obiettivi, i loro progetti. Però ripeto, anche stare male, anche stare quella giornata depressi, perché poi è difficile gestire un dolore fisico così importante che diventa quotidiano, che non si manifesta poi solo alle mestruazioni, ma per molti, come nel mio caso, è un dolore quotidiano, che ormai si è cronicizzato, ma è anche un dolore intimo, perché chiaramente è invalidante e questo va a influire, a impattare su molti aspetti della vita di una persona con una patologia cronica. Quindi come si può superare questo tipo di dolore? Sicuramente circondandosi di affetti sinceri, di persone che non faticano a comprendere la propria condizione, magari anche il supporto psicologico può essere d'aiuto, nel mio caso, forse anche un po' per vocazione, l'arte è stata fondamentale. Per me è stato un vero percorso di catarsi, per esempio realizzare un progetto di mostra proprio a tema endometriosi per sensibilizzare sulla tematica dell'endometriosi e del dolore cronico e quindi fare tutto quello che ci fa stare bene. Ho imparato a dire di no, che era una cosa per me difficilissima, sto imparando a definire i miei confini e sto imparando anche ad accettare quelle giornate no in cui sto a letto e non pretendo più da me stessa. Una volta questa cosa mi generava frustrazione, adesso lo accetto, lo accetto va bene così, il mio corpo sta chiedendo di fermarsi un attimo e va bene questo. Si può guarire e a che punto siamo con la ricerca? Purtroppo l'endometriosi è una patologia cronica, quindi non si può guarire. Si stanno facendo molti studi sull'alimentazione, sullo stile di vita, sul tipo di terapia, ma ad oggi l'unica terapia per tenere a bada i sintomi è la pillola anticoncezionale, l'enantone, che è una menopausa indotta. è sostanzialmente farmacologica e questo, neanche l'intervento è risolutivo, perché la malattia si può ripresentare anche in forma più violente, quindi magari si vanno a eliminare alcuni cisti, alcune formazioni, però poi possono ripresentarsi e comunque non si regredisce, non si torna indietro semplicemente si va a pulire quello che c'è. Quindi l'intervento non è risolutivo, la terapia farmacologica non è risolutiva e neanche la menopausa, perché appunto è una malattia cronica che ci accompagnerà, ci accompagna per tutta la vita. si spera che però piano piano qualcosa si muova, per esempio in Francia, ho letto qualche tempo fa, addirittura è stato inventato un test diagnostico, che è un tampone salivare per diagnosticare l'endometriosi, è qualcosa di molto avanguardistico, considerato che ancora si ricorre alla paroscopia diagnostica, quindi l'intervento direttamente per andare a vedere il grado di severità della patologia. Quali sono i problemi di socialità e di vita che si affrontano? Sono molto fortunata perché sono circondata da persone che comprendono la mia condizione, che rispettano i miei no, i miei rifiuti all'ultimo secondo, quando non sto bene e questo mi rendo conto essere un privilegio perché per quanto dovrebbe essere normale, non lo è. Tante volte sono stata accusata di utilizzare la mia patologia come scusa per non uscire o fare cose ed è tosta, è difficile anche lavorativamente parlando, sono riuscita a ottenere la legge 68 per lavorare, quindi lavoro adatto alle mie condizioni di salute, però ad oggi fatico a lavorare come dipendente, ad adattarmi alle esigenze di un'azienda, quindi lavoro come libero professionista in comunicazione e chiaramente mi autogestisco per quello che riguarda l'arte e i progetti d'arte e questa cosa da un lato mi rasserena, dall'altro mi preoccupa perché chiaramente lavorando come libero professionista le entrate, i periodi sono delle vere e proprie altalene e le uscite che richiede una patologia del genere sono molto alte, i costi della vita sono elevati, io adesso sto girando questo video da Negrar, dove c'è un ospedale molto buono focalizzato su questa patologia, quindi sono a 700 chilometri da casa e anche fare questi spostamenti, io poi ci resto per due settimane perché faccio anche delle terapie di riabilitazione, è un costo, per quanto possiamo avere anche delle esenzioni che vanno comunque perfezionate, vanno migliorate. Questo direi che il mio problema più grande al momento è la gestione del lavoro e sicuramente c'è stato in passato un grande problema dal punto di vista della relazione intima con un partner dato che l'endometriosi porta anche molti problemi a livello di rapporto intimo, molti dolori e spesso si combatte anche con l'infertilità, quindi a quel punto anche il compagno o la compagna comunque rimane coinvolta coinvolto nella vita di una persona malata che non può concepire probabilmente e comunque ha alto rischio di infertilità una vita che è spesso tra gli ospedali e che rende difficile anche complessa quantomeno una vita intima se ci si limita al concetto di penetrazione perché poi ci sono molti altri modi per darsi piacere. come coniughi il tuo lavoro artistico con la malattia coniugare appunto come ho già detto precedentemente il mio lavoro artistico con la patologia non è sempre semplice perché per quanto gli amici possano comprendere poi magari mi ritrovo a dover disdire delle call a doverle posticipare quando lavoro per i fatti miei mi organizzo però quando si lavora su progetti chiaramente ci si sente in qualche modo un bullone rotto che va ad inceppare un intero macchinario quindi non è semplice cerco di non farmi più prendere dal panico e accetto accetto anche questi rallentamenti e spero che lo comprendano anche gli altri la giornata no può capitare a tutti e a me può succedere un po' più spesso raccontaci del tuo impegno in favore della conoscenza della malattia sin dal momento della diagnosi che per me è arrivata davvero troppo tardi già in media c'è una diagnosi tardiva che va dai 7 agli 11 anni e nel mio caso è stata davvero molto tardiva e ho capito che bisognava parlarne il più possibile quindi ho cominciato da subito facendolo con amici e parenti poi ho scritto un manifesto che è diventato il diciamo il manifesto della mostra Campominato che sono andata a creare per sensibilizzare su questo tema ed è un progetto ancora in fermento e l'abbiamo esposta a Roma nel 2021 giugno 2021 adesso ci stiamo rilavorando perché credo che l'arte sia uno dei mezzi migliori per arrivare proprio nel profondo delle persone e adesso mi sto aiutando molto con i social collaboro con la dottoressa Sara Valente che è una nutrizionista e la giornalista Lucrezia Chicchese insieme stiamo cercando di smuovere un po' le acque soprattutto in Molise che è la mia regione invalidità e infertilità si deve ricorrere ad un supporto psicologico allora personalmente credo molto nel nel supporto psicologico di qualsiasi forma io sono in terapia avevo iniziato per altri motivi e poi ho scoperto che anche la mia terapista tra l'altro soffriva di endometriosi e poi ho interrotto il percorso con lei perché mi sono ritrasferita vivevo a Roma e mi sono ritrasferita per motivi di salute nella mia regione perché i ritmi di una città frenetica come Roma mi stavano diventando insostenibili purtroppo e questo per me chiaramente non deve influenzare gli altri però per me stava diventando complicato anche a livello economico gestire il tutto e quindi sì ho continuato la terapia da campo basso ed è importante io ho un percorso che consiglio in realtà a chiunque però sicuramente affrontare prendere consapevolezza del proprio corpo accettare abbracciare in qualche modo la malattia è necessario ci sono giorni in cui vorremmo mandare tutto all'area ed è giusto anche questo però bisogna anche imparare a conviverci inevitabilmente sarà la nostra compagna di viaggio per un bel po' per tutto il resto della nostra vita per cui va bene così e allora sicuramente parlare con una persona competente è importante ripeto consiglio il supporto psicologico a chiunque però nella gestione del dolore cronico e anche dell'infertilità perché poi ci sono persone che desiderano fortemente un bambino e si sentono chiaramente mutilate private di un sogno quando vanno incontro a un'endometriosi che rende infertili e allora sì è chiaramente importante gli uomini comprendono lo stato della donna o sono ancora maleducati in questo senso per l'uomo è più difficile comprendere immedesimarsi chiaramente in un corpo che è completamente diverso dal suo non è una questione solo di uomini ma proprio in generale di empatia perché anche molte donne faticano a comprendere la patologia e chiaramente con gli uomini subentra il tema della della sessualità e non tutti sono disposti a rinunciare o a rinunciare quantomeno in parte o temporaneamente alla penetrazione come dicevo prima ci sono molti altri modi per per vivere il rapporto e è molto soggettivo però devo dire che gli uomini di quest'ultima generazione sono sicuramente molto più aperti e comprensivi voglio augurarmi che ce ne siano sempre di più quanto meno come le superate e quali sono i tuoi consigli per tutti coloro che si rendono conto di averla ripeto io vado di alti e bassi ci sono giorni che sono infinitamente difficili da gestire per il resto la terapia circondarsi di persone sane e ho iniziato a fare decluttering totale nella mia vita rinunciare impegni che non erano prioritari sto imparando a mettermi al primo posto cosa che se prima magari chiudevo un occhio e dicevo vabbè questa cosa va fatta anche solo per apparenza adesso no ho poche energie ed è giusto che le impieghi come meglio ritengo opportuno quindi non mi stanco con cose che non ritengo positive mi circondo di bellezza di gesti gentili sono la prima a praticarli e questo si potrei dire questo quando sto a letto che non sto bene mi riposo oppure proprio mi se non riesco perché sento di dover essere iperattiva per forza di cose leggo leggo e nutro la mente questo so che è un percorso difficile è anche molto soggettivo ognuno è il suo e fate tutto quello che può farvi bene al cuore di rimando lo farà anche al corpo ciao